Benvenuti ragazzi per vedere questo nuovo video Noi siamo partiti Allora, per il campeggio Questo è il campeggio che vi ho fatto vedere Il campeggio che vi ho fatto vedere Ecco Stiamo partendo Adesso è mio nonno E vedete qui le robe Poi qui sono messi Poi anche la nonno C'è la mia bicicletta C'è la mia bottiglia E Dopo vi porto il viaggio Se no si scarica il telefono E Vedete Da mangiare o vuole qualche merendina o qualcosa? Sì Scarpe cani Un po' sporche Fatte la doccia raga Fatte la doccia Questo non me lo faccio vedere perché è ancora piccolo Però lo carezzo Ciccione mia Soltanto mia E dite sì E dite sì E dite sì Allora Vabbè Vi lascio la prossima visione Aspetteremo un po' Ciao Ciao